A Paola gli agenti della Polizia Provinciale di Cosenza hanno sequestrato un'area demaniare di oltre 30.000 m2. L'operazione è stata compiuta nell'ambito di alcuni controlli per la repressione degli illeciti ambientali e ha permesso il ritrovamento sulla sponta destra del torrente Deuda, di alcune opere abusive come strade sterrate, sbancamenti e movimentazioni di terreno vegetale e un deposito di pietrisco realizzate senza alcun permesso. La zona sequestrata è stata inoltre sottoposta a vincolo paesaggistico-sismico e paezona R4. La Procura della Repubblica di Paola, che ha coordinato le indagini, ha avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili.